Ciao a tutti, con questo video vorrei rivolgermi a tutti appassionati di calcio femminile e non solo a firmare la petizione per far arrivare i diritti tv alle nostre società. Vogliamo vincerla questa partita tutte insieme o no? Cosa aspettate? Potete trovare il link su Facebook, calciodonne.it e SD Mozzanica. Grazie a tutti.